. Grande fratello Vip, Cecilia e Ignazio, se vi buttano fuori vi aspettiamo a braccia aperte. Se ne parla ovunque, anche qui, sulle pagine di FK Magazine che, essendo un rotocalco online di spettacolo, si occupa anche di quizquilli televisive, oltre che di cose molto belle, come mostre da vedere o libri da leggere. Cecilia e Ignazio, dicevamo. La coppia più chiacchierata e meno amata di questa edizione del reality di Canale 5 potrebbe essere arriva al momento della separazione, almeno allinterno della casa. Entrambi sono infatti in nomination e uno dei due rischia di uscire la prossima settimana, per la gioia del pubblico da casa. E anche di Pornhub. . Già. Il popolare sito Art, con la solita ironia, ieri sera ha fatto sapere ai due piccioncini che non devono preoccuparsi, ci sono loro, ad aspettarli. .